Io sono sicuro che su alcune cose questo governo farà benissimo, piano vaccini anche perché l'Europa sta facendo, i contratti sono gli stessi di prima, a von der Leyen deve semplicemente essere ancora più dura con le case farmaceutiche, forse per me li avrei sequestrati i vaccini direttamente, ma decide a von der Leyen e i paesi stanno sostenendo questa linea. Così come sono sicuro che Draghi ci consentirà nel dopo Don Bromsky, mi riferisco soprattutto dopo i vincoli di bilancio post Covid, non c'è persona che più di grande può aiutarci a trattare e mediare i vincoli di bilancio migliori nel mondo che verrà in Europa nel post Covid, così come sono sicuro che verrà fatta una riforma fiscale seria e la flat tax finalmente messa in soffitta. Sono tutte cose che sono sicuro che dovranno Draghi fare bene e noi lo sosteneremo. Grazie per la visione!